Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti, io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi è il perché ci si incastra sempre in determinate situazioni, o meglio, mi piacerebbe aiutare le persone che si ritrovano sempre in situazioni che hanno le stesse dinamiche, magari con persone diverse, però situazioni che più o meno hanno le stesse dinamiche, mi piacerebbe dare un aiuto appunto a capire il perché si incastrano le cose, che cosa potete lavorare per far sì di non ricadere più nelle solite dinamiche. Abbiamo tre scelte, la prima scelta è questo braccialetto di Turchese del Brasile, bellissimo, la seconda scelta è questo bracciale di Granato, non si vede molto, però è un po' trasparente, e la terza scelta è questo bracciale di Opalite, così si vede meglio, ha dei bei riflessi blu. Bene, scelta 1, scelta 2 e scelta 3. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il Turchese del Brasile. Vi ricordo che sono letture generali, sono fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'Universo. Ok, andiamo a vedere che messaggi ci sono per le persone del Turchese del Brasile. Wow, tre messaggi. Abbiamo serendipità. Le parche e la tribù. Wow, niente male, devo dire, eh? Niente male. Allora, carta numero 18. La serendipità parla di quello che è la sincronicità in realtà, no? Che poi, niente per caso, ma fa riferimento a tutto quello che, diciamo così, l'Universo sta orchestrando per far sì che voi possiate incontrare le lezioni di vita che vi servono per evolvere. Si tratta di sincronicità, quindi numeri doppi, magari segnali, cose che vedete, parole che ascoltate, che per voi comunque sono significative. È un po' come se fossero segnali dell'Universo. Poi abbiamo le parche. E giusto appunto parla di quelli che sono i cicli del karma. Quindi, probabilmente, per questa stesa c'è qualche cosa che ha a che fare con il vostro karma, qualche cosa che dovete imparare. Ed è la carta numero 17. Qua sotto abbiamo la carta della tribù, che è una carta numero 8. e parla del distacco, dello staccarsi da quello che è la propria tribù di origine per andare verso il proprio scopo di vita, il proprio cammino, insomma, la propria realizzazione. Andiamo a vedere con i tarotti che cosa vi dicono. 6 di spade, 7 di coppe e abbiamo un fante di pentacoli. Dunque, il 6 di spade al contrario parla di qualcuno che in questo caso, questo distacco, non lo vuole fare perché probabilmente c'è ancora tanta indecisione, c'è ancora tanta nebbia a livello mentale, diciamo. La tribù, io ho spiegato il significato originale della carta, però se lo guardiamo in un senso un po' più ampio, anche se magari non è la famiglia d'origine, può anche essere un gruppo a cui appartenete ora. Quindi magari potrebbe anche essere un gruppo di lavoro, un gruppo familiare, un gruppo consolidato comunque perché fa riferimento alla famiglia. Quindi sento che c'è la difficoltà probabilmente a lasciarsi indietro determinate cose, determinate credenze, determinate persone, abitudini, ok? Ma sento che siete in un periodo fortunato perché comunque avete tante possibilità, ok? Il fatto che qui vi sia uscita la carta del serendipità, della sincronicità, è proprio quello, il fatto che vi stiano capitando tante cose nello stesso momento, o comunque in momenti ravvicinati, è come se l'universo vi stesse mandando dei messaggi per farvi capire quali sono le possibilità, in un certo senso per uscire da questo karma, per staccarvi da questa situazione. Qui potrebbe fare riferimento perché entrambe le carte fanno riferimento alla famiglia, quindi qui magari si tratta di qualche tipo di credenza limitante che è stata inculcata nella nostra infanzia e che ci sta limitando nella vita attuale, in questo momento di vita preciso, ok? Abbiamo comunque poi un fante di pentacoli, quindi io qui sento che c'è la volontà veramente di capire quali sono le dinamiche a livello energetico per riuscire ad uscire da questo tipo di situazione, da questo tipo di ciclo karmico, ok? Andiamo avanti, vediamo cos'altro vi dicono. Allora, queste sono troppe, però questa la prendo. Regina di pentacoli, la giustizia è il contrario, ancora una, per piacere. Gli amanti, wow! Io credo che, normalmente quando escono gli amanti c'è un lavoro da fare sull'amor proprio, e qui avendo anche questa regina di pentacoli, io credo che la cosa abbia a che fare con una madre, ok? La regina di pentacoli in realtà non è che rappresenti vostra madre, però sento che c'è un qualche tipo di sentimento, se vogliamo, di rassegnazione che avete probabilmente preso in famiglia, ok? Perché comunque la regina di pentacoli è una persona che dà sempre agli altri, provvede agli altri, però in qualche modo, quando lei ha bisogno non c'è mai nessuno che la supporti. E questa è un po' l'energia, secondo me, che avete assorbito, ed è l'energia che state vivendo anche in questo momento. C'è la giustizia al contrario, sento che è un po' come se il vostro nodo fossero le ingiustizie. Il puntare i piedi e dire no, non è così, per me questa cosa non è giusta, io non condivido, non sono d'accordo, non faccio questa cosa, non dico questa cosa, non partecipo, perché secondo la mia legge morale non è giusta. E di fatti qui abbiamo anche gli amanti, e parlano proprio di quello che è l'amor proprio, e qui si tratta di quello fondamentalmente, ok? Per cui sento che avete bisogno di staccarvi da questa tribù, o meglio dai condizionamenti mentali. che avete acquisito in questo gruppo, in questa tribù, ok? Il fatto di dover dare. Molte persone pensano di dover dare continuamente, sempre, per essere amati, per essere accettati, perché qualcuno gli voglia bene, per essere riconosciuti. E questo tende poi a scaricare la persona, perché è sempre verso l'esterno che dà e non riceve. E quindi non c'è questa retroalimentazione, insomma, non è uno scambio equo, ok? Di fatti è per quello, la giustizia è al contrario. Normalmente la giustizia parla di una cosa equilibrata, in equilibrio, o di qualcosa che si taglia per raggiungere l'equilibrio. Però qui io sento che ci sono dei disequilibri, ed essendoci poi anche gli amanti, quello su cui potete lavorare, secondo me, è proprio l'amor proprio. Terminiamo la stesa con un 3 di bastoni al contrario e un 7 di spade. Quindi sì, alla fine ci sono con questo 7 di spade degli atteggiamenti comunque poco chiari. Vi dicevo prima, sono un po' le bugie che vi raccontate. Sono un po' quelle che vi raccontate. In realtà sì, adesso ve le state raccontando voi, ma in origine ve le hanno raccontate e alla fine voi ci avete creduto. Quindi magari sono cose che adesso non vi servono più. Il punto che sento non... Qui si tratta di riuscire a puntare un obiettivo. È come se non aveste obiettivi, è come se non aveste... Vi dico, la regina di denari parla di quello che è una sorta di rassegnazione, è anche un po' di tristezza, un po' così, un po' malinconica come energia, no? Che, se pensiamo a una persona che si stacca dalla tribù, ci può stare come energia, no? Una persona che se ne va, c'è sempre un po' di tristezza. Guardate, mi è cascata questa carta, un asso di spade. Qui c'è bisogno, come dice la giustizia, di tagliare qualche cosa. C'è assolutamente bisogno di lasciarsi... di tagliare qualche illusione. Anche qui avevate la carta del sette di coppe, può rappresentare le possibilità e può rappresentare anche le illusioni. Ok, andiamo a vedere, Osho, che cosa ha da dirvi. Andiamo a vedere che consiglio vi può dare per riuscire ad uscire da questi cicli, che secondo me sono cicli davvero... Normalmente quando c'è l'amor proprio da lavorare, gli amanti, si tratta veramente di fare un discorso di guarigione del bambino interiore, per qualcuno, perché quando il bambino interiore è ferito, è danneggiato, è danneggiato anche l'amor proprio. Allora, guardate, condizionamento, giusto appunto. Allora abbiamo la carta della fioritura, che è una regina di denari, è la stessa energia, ok? E qui abbiamo il condizionamento. Allora, la carta... Guardate, ne metto qui, che tanto si vedono, così si vedono tutte. La carta della fioritura, come vi dicevo prima, è l'energia della regina di denari, ok? Quindi, quello che sento qui è che si tratta di utilizzare quello che è la vostra ricchezza a livello pratico, a livello interiore, magari anche a livello monetario per qualcuno. Ma sento qui... Ho visto delle mani, tipo dipingere o con la creta, quindi io credo che si tratti di quello che è lo sviluppare, la propria creatività, il proprio fare con le mani, come se vi dicessero sboccia, inizia a fare, inizia a creare. E qui abbiamo il condizionamento, quindi quello di cui si parlava prima, no? Queste idee che vi sono state inculcate quando eravate bambini e che magari adesso non vi servono più. Quindi, io credo che per molti questi tratti veramente, visto che abbiamo anche come oracolo la carta che proprio parla del karma e dei cicli karmici, penso che qui sia proprio qualche cosa a livello familiare che viene trascinato vita dopo vita. Credo comunque che per molti si tratti della madre o comunque di quello che è l'energia femminile. Il fatto... Perché le donne hanno soprattutto come idea, diciamo, come idea collettiva, nell'inconscio collettivo, hanno questa idea che bisogna sacrificarsi per la famiglia, per i figli, per avvicinarsi a Dio, per essere accettate. Per essere accettati ce li hanno anche gli uomini come credenza limitante, però c'è questa sorta di spirito di sacrificio e lì entra in gioco il lavoro sull'amor proprio. Perché il sacrificio io non lo vedo mai una cosa buona, cioè va bene fatto per un breve periodo, ma quando poi diventa un lungo periodo, diventa una costante, è un modo di vivere la vita e non è più sano. Perché ci vuole anche quello che è un appagamento del cuore, la gioia, il star bene, ci vuole un equilibrio che è quello che adesso non c'è con questa giustizia al contrario. Però sento, ripeto, che molto fa parte delle bugie che vi sono state raccontate oppure che attualmente vi state raccontando voi, fa parte del condizionamento mentale che avete subito. Ci sono molte proiezioni, ok, nel modo di percepire il vostro posto nel mondo, mi verrebbe da dire. È come se ancora fossi in una fase di devo capire cosa devo fare, qualsiasi età abbiate. però è come se foste in una nuova fase della vostra vita. Ma in effetti questa carta vi dice che state fiorendo, che è ora di fiorire. Ok, quindi via tutti i veli che non servono più. Potete fare il lavoro sulle credenze limitanti, potete fare il lavoro di scavo per andare a a trovarle. Sto preparando dei video a tal proposito, ci sto mettendo un po' perché c'è un'altra serie che voglio far uscire prima, ma mi sto muovendo. Andiamo a vedere. Voglio ancora darvi un messaggio così per chiudere la lettura. Vediamo che consiglio vi danno le fattine. Quindi fondamentalmente il lavoro che dovete fare è sulle credenze limitanti. guardate, manifestazione. Sì, ed è proprio qui no. Allora, il lavoro solo che vi faccio un'anticipazione di quelli che saranno i video. Il lavoro sulle credenze limitanti sta nello scovarle, riprogrammarle per manifestare una nuova realtà. È chiaro che se voi state tentando di manifestare l'amore della vostra vita, ma come credenza limitante avete quella di non meritare amore, capite che fate fatica a manifestare quella roba lì che voi volete, anche se state lavorando al 100% con le leggi di attrazione. però se non si toglie la credenza limitante di base avrete sempre solo un 10% di quello che state manifestando, 20 magari. Quindi il lavoro che potete fare per aiutarvi ad uscire da questo condizionamento che attualmente avete, che è la carta del diavolo fondamentalmente, parla di qualche cosa che vi fa sentire in gabbia e lo sento molto come un condizionamento mentale perché comunque abbiamo tante carte che parlano di questo genere di condizionamento, ok? Non è un non mi posso spostare, non posso traslocare perché non ho i soldi, ipotesi. Questo è un condizionamento da un punto di vista pratico. Sento che molto qui fa riferimento appunto a quello che vi dicevo prima, all'amor proprio e guardate, normalmente diciamo che l'ombra, cioè le vedo molto come due carte contrapposte. la carta degli amanti e la carta del diavolo, ok? Perché giustamente dove manca uno c'è l'altro, perché il diavolo e il condizionamento fa anche riferimento ai sentimenti, cioè i sentimenti, alla codipendenza, quindi che è una mancanza di amor proprio. Bene, cari amici, spero che in qualche modo la lettura vi possa essere stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao! E benvenute alle persone che hanno scelto il braccialetto di granato. Andiamo a vedere qual è l'oracolo per voi. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Ok. La tribù è uscita anche nella prima nella prima lettura. È una carta numero 8 e parla di quello che è il distacco fondamentalmente da un gruppo o dalla famiglia, dalle persone che sono state con noi durante il periodo dell'infanzia, magari della crescita anche. Si tratta qui di staccarsi da quello che è la tribù di origine per creare la propria tribù, per creare la propria famiglia. Quindi anche qui si parla di distacco. abbiamo un re di bastoni andiamo a vedere che cosa vi dicono l'eremita interessante allora qui si il re di bastoni mi fa pensare è la morte due arcani maggiori su tre carte allora il re di bastoni mi fa pensare che che siate comunque o siate stati diciamo così in una posizione comoda il re di bastoni è comunque una carta che parla di una certa stabilità parla comunque di quella che è una certa ricchezza un certo tipo di potere personale è una zona di comfort ok ed è un po' quello che poteva essere lo stare nella vostra famiglia d'origine in questo gruppo che già conoscevate insomma abbiamo poi anche la carta dell'eremita e qui parla di quello che è un viaggio interiore da dover fare probabilmente c'è un lavoro di autoconoscenza che è necessario fare e da lì dopo questo lavoro di autoconoscenza arriva la morte quindi arriva questa trasformazione questo cambiamento questa rinascita interiore fondamentalmente ok è un tagliare quello che non serve più per come vi posso dire per rinascere per anche per andarvi più leggeri sento in qualche modo c'è bisogno di lasciarsi indietro probabilmente determinate atteggiamenti determinate anche aspettative magari per qualcuno andiamo avanti vediamo che cosa vi dicono abbiamo la sacerdotessa la regina di coppe un 9 di coppe un 8 di pentacoli ancora una carta per piacere grazie scusate ho mostrato tutto e un 7 di coppe quindi sì qui ho due carte che parlano di ricerche interiori di intuizioni di canalizzazioni di messaggi che arrivano dall'interno e anche con la regina di coppe qua si tratta di avere una profonda conoscenza di voi stessi fondamentalmente perché appunto sia l'eremita l'eremita mi parla di quello che è una conoscenza diciamo a livello di ricerca attiva quindi mettersi lì e chiedersi perché reagisco così perché faccio queste cose e parla comunque di una necessità di prendersi un periodo di distacco dagli altri c'è bisogno di fare questo lavoro questo percorso in isolamento comunque perché bisogna fare i conti con se stessi con le proprie realtà togliendosi quelle che sono le maschere ok per poter veramente rinascere autentici e il punto che qui la sacerdotessa allora per qualcuno può essere un invito ad approcciarsi ad alcuni tipi di studi e approfondire magari certi temi in modo da poter espandere la conoscenza la consapevolezza oppure la necessità di staccarsi da questa tribù è proprio per riuscire ad andare a fondo con certi temi perché magari non lo so qualcuno ha una famiglia molto conservatrice non accetta certi tipi di percorsi di studi magari di scelte anche perché vi ricordo che la sacerdotessa visto che comunque nelle due colonne parla di scelte che in realtà poi sono superate nel migliore dei modi però parla comunque di quello che sono le scelte la regina di coppe è qui in un certo senso per io la sento molto collegata alla sacerdotessa parla di quello che è la propria connessione con con se stessi con il proprio lato emotivo e guardate casca direttamente sotto l'eremita quindi io sento che qui si tratta di è come fare un restyling interno completo a partire da quello che cosa è importante per me che cosa voglio per me come voglio essere io che cosa sento sia giusto cosa provo quali sono i miei vuoti i miei sogni i miei desideri sì l'obiettivo qui è proprio ascoltarsi cioè credo che il fatto per cui voi vi troviate sempre nelle stesse situazioni sia perché non vi prendete quel momento per riflettere su quello che sia giusto per voi su quello che sentite di dover o voler fare un consiglio che vi posso dare è di studiarvi qualche risposta quando vi dicono dai vieni anche tu dai fammi questo favore o cose di questo genere studiarvi delle risposte per prendere tempo perché mi rendo conto che magari c'è qualcuno che quando viene preso la sprovvista non ha la prontezza di riflessi di dire no grazie non ho tempo non è il momento non ho piacere non me la sento quindi un consiglio può essere quando magari vi trovate incastrati in qualche tipo di dinamica studiate delle risposte tipo da dare per prendere tempo vi prendete l'attimo di cui avete bisogno con la carta dell'eremita cercate di entrare in contatto con quelli che sono i vostri sentimenti le vostre emozioni le vostre intuizioni anche ok eviterei di farmi un goccetto però ecco cercate di questa carta parla di eccessi io adesso ho fatto la battuta però cercate di non eccedere ma né in un senso né nell'altro né nell'isolarvi troppo né nel dare troppo cercate quello che è un equilibrio perché qui avendo questa carta sento che i piatti della bilancia sono fortemente in disequilibrio difatti comunque c'è anche un quadro di pentacoli che è una carta che mi parla di staticità magari magari siete sì poi abbiamo anche sette di coppe sette di coppe da un lato parla di possibilità dall'altro parla di illusioni quindi è come se dovesse cercare le risposte dentro voi stessi in modo equilibrato avete bisogno di prendere tempo ok per capire che tipo di strada prendere durante una situazione una relazione o nella vostra vita più in generale cioè io qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di fare quello che è un viaggio interiore magari un viaggio non lo vedo tanto però magari un viaggio di tipo fisico potrebbe aiutarvi il fatto di non lo so andare in montagna per un periodo piuttosto che al mar al lago di dedicarvi a voi stessi perché quello che salta fuori qui è che davvero c'è la necessità di entrare in contatto con voi stessi c'è una sorta di potere materiale ma non lo vedo tanto a livello di potere spirituale cioè quanto siete forti fuori dalla tribù perché dentro siete un re fuori fuori dalla vostra zona di comfort però quello che appunto che vi dicono le carte per essere sicuri per acquisire potere che non è solo il potere materiale pratico è proprio un potere da un punto di vista del potere di manifestazione ok perché la sacerdotessa parla anche di quello parla di intuizione parla di capire le proprie emozioni e poi avete la morte che parla anche di rinascita quindi è proprio un filtrare la vostra verità ok questo quattro di pentacoli lo sento come un attaccamento a qualche tipo di stabilità e di concretezza del re di bastoni qui si tratta di togliere i filtri si tratta di entrare in contatto con voi stessi e di riuscire così a valutare in modo autonomo quali potrebbero essere le possibilità o le illusioni anche no vorrei ancora una carta per questo quattro grazie abbiamo un tavaliere di spade un fante di pentacoli si io credo perché guardate anche il fante di pentacoli alla carta dell'apprendista mi parla di studiare la sacerdotessa mi parla di studiare e l'eremita mi parla di viaggio interiore qui dovete fare un percorso di crescita personale secondo me molti hanno già iniziato perché comunque avendo la sacerdotessa nella stesa molti in qualche modo anche inconsapevole hanno già iniziato a farsi certe domande a chiedersi il perché di certe cose però ecco io credo che quello che vi freghi un pochettino sia il fatto di in questo momento in questa tribù di rivestire un ruolo e quindi per certi versi questo magari vi condiziona quindi il consiglio è proprio quello di prendersi questo tempo di cui parla di cui parla l'eremita insomma per riuscire ad entrare profondamente in contatto con voi stessi e però avete anche un cavaliere di spade sento che lo farete con molta determinazione ok andiamo a vedere osho che cosa vi dice vediamo che cos'altro riesco a raccontarvi che altro vi posso far vedere che magari non vedete andiamo a vedere conscio e inconscio ok consapevolezza e proiezioni un 7 di spade anche qui avevate un 7 è quello che vi ho detto prima alla fine no e la consapevolezza la consapevolezza che raggiungerete attraverso questo percorso attraverso il guardarvi dentro farvi certe domande proprio da un punto di vista esistenziale cosa ci faccio io qui che ruolo ho in questo gruppo in questa tribù chi sono veramente io ma arriva arriva perché la carta ce l'avete comunque e poi appunto le proiezioni sono quelle che dovete buttare giù questa vi dico sempre che può essere o la carta delle possibilità o la carta delle illusioni dipende un po' da quelle che ci sono vicino però vedendo appunto che anche qua viene fuori la carta delle proiezioni che tra l'altro è la stessa carta è un 7 di coppe fate attenzione a quello che è la proiezione che avete di voi stessi nel ruolo che avete rivestito fino ad adesso ok si tratta di far pulizia fondamentalmente ok allora ancora un messaggino da parte delle fatine saggezza ti è mai stato detto che sei diventato sempre più saggio attraverso gli anni adesso è tempo di di attingere a questa saggezza per aiutarti in questa sfida ma infatti avete l'eremita l'eremita è la carta del saggio è colui che sa come affrontare le cose perché ha già avuto tante esperienze cari amici del granato spero che la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nelle prossime letture ciao ciao benvenute alle persone che hanno scelto il bracciale di opalite andiamo a vedere con gli oracoli della saggezza qual è il messaggio in apertura vi ricordo che sono letture generali quindi prendete i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo ok andiamo a vedere per gli amici dell'opalite che messaggio hanno da darvi grazie girare in tondo è proprio quello che stiamo guardando come uscire da questo cerchio fondamentalmente quindi qui c'è probabilmente è un ciclo che si ripete da un po' è una carta numero 25 ok io credo che ci sia qualche cosa davvero che si incassa ripetutamente state comunque continuando a non vedere più in là del vostro naso ok vedete sempre lo stesso panorama diciamo così andiamo a vedere cosa vi dico nei tarocchi abbiamo la carta del karma la carta del 10 di spade il fante di bastoni e la ruota della fortuna che vediamo dopo guardate girare in tondo comunque è un po' quello che dice la carta del karma qui avete proprio una carta che è la carta del giudizio che vi dice che potrebbe esserci qualche tipo di karma che sta influenzando la vostra vita con questi cicli ripetitivi però guardate c'è un 10 di spade in qualche modo questo ciclo si sta chiudendo perché il 10 di spade parla proprio di quello che è la fine del ciclo della sofferenza è un 10 quindi di conseguenza parla anche di quello che è un nuovo inizio una volta che finisce un periodo ne inizia sempre un altro nuovo abbiamo poi anche questo fante di bastoni qui il fante di bastoni sento che si tratta credo che parli di ritrovare quello che è l'entusiasmo ritrovare quello che è anche un po' quel sano egoismo se vogliamo ok perché giustamente qui c'è qualche tipo di sofferenza qualche tipo di dolore che probabilmente ci si trascina dietro a livello karmico e quindi anche risolvere questo dolore diventa impegnativo insomma perché non è solo quello che è successo in questa vita è un qualche cosa che vi portate dietro per un lignaggio proprio abbiamo poi la ruota della fortuna e anche la ruota della fortuna comunque parla di karma parla di destino 4 di bastoni dicevo anche la ruota della fortuna parla di qualche cosa che cambia di qualche tipo di ciclo che termina di qualche tipo di ruota appunto girare in tondo io qui vi faccio presente che sono è una carta con un cerchio ok quindi normalmente quando ci sono delle carte che hanno una raffigurazione con un cerchio è perché può fare riferimento anche proprio ai cicli di vita alla ruota del destino appunto sì è una sfida a livello karmico la vostra è un qualche cosa che dovete proprio siete voi che dovete rompere questa catena del girare in tondo e come fate con la forza di volontà che è quello di cui siete carenti in questo momento sento che molte persone non hanno il coraggio di affrontare certe scelte di affrontare certi alto là nel senso che si tratta un certo punto di dire ok fino a qui va bene e di qui in poi no guardate il karma lo sento molto a livello familiare ok per qualcuno potrebbe essere a livello anche di coppia romantica perché comunque abbiamo un quadro di bastoni e molte volte fa riferimento a quelle che sono le coppie di anime gemelle insomma no quindi potrebbe essere anche una coppia a livello romantico non necessariamente allora mi spiego a livello karmico quando io parlo di livello karmico vuol dire che in un'altra vita qualcuno nella vostra famiglia ha innescato un qualche tipo di dinamica che poi si è ripetuta nei figli questa dinamica continua a ripetersi fino a quando uno dei figli i figli dei figli e così via non interrompono questa dinamica quello è uscire dalla ruota del karma ok al di là di questo bagaglio voi avete anche qualche contratto con un'anima gemella che potrebbe essere all'interno della famiglia questo non è da escludere ma non è neanche da escludere che potrebbero essere due situazioni di tipo diverse cioè qui avete il vostro bagaglio karmico da elaborare per conto vostro e questa anima gemella che potreste incontrare vi dà la possibilità di uscire da questo karma molti magari l'hanno già incontrata stanno già vivendo questa relazione devo vedere come finisce la stesa ora una carta per piacere grazie wow cavaliere di coppia 8 di pentacoli e il 5 di spade allora io direi che allora il cavaliere di coppia parla di qualcuno che viene a farvi un'offerta lì abbiamo scusate abbiamo un'altra figura che è un un paggio di bastoni quindi potrebbe essere che davvero per qualcuno si tratti di incontrare quell'anima gemella che a volte è una relazione romantica a volte no lo ricordo che vi può fare quella proposta quell'offerta vi può illuminare diciamo così su quello che è la vostra quotidianità il vostro modo di pensare e il vostro modo di porvi il vostro modo di uscire da questa ruota del karma fondamentalmente ok quindi io credo che qui si tratti di incontrare una persona che vi aiuterà ad uscire da questo da questo tipo di situazione diciamo che vediamo se vi posso dire qualcos'altro con i tarocchi di osho perché qui giustamente come faccio cioè nel senso se non incontrano questa persona non escono dalla ruota del karma voglio vedere di più ok andiamo a vedere che cosa mi dice vediamo se ok allora abbiamo il silenzio e intensità è un altro cavallo questo cavallo di bastoni mentre la carta del silenzio è la carta della stella quindi parla di sogni parla di speranza parla di capacità di visualizzare anche ma parla di desideri di obiettivi mentre l'intensità parla di quello che è la spinta propulsiva in avanti allora io credo che qui la sfida fondamentalmente sia cambiare il vostro karma quindi non è solo il come esco da questo genere di situazioni proprio come esco da questo karma millenario familiare quindi non è una roba più semplice ma si può si può si può uscire della ruota del karma avete la ruota della fortuna ce la farete qualcosa cambia sento che molto può dipendere da quello che l'incontro con qualcuno con una persona molto affine voi che potrebbe essere la vostra anima gemella e che potrebbe aiutarvi a darvi coraggio fondamentalmente ad avere quella quella volontà perché abbiamo comunque la forza la forza parla anche di scelta scelta in positivo no che è quella cosa che cambierà la vostra quotidianità e come se vi dicessero parti dalle piccole cose non so se è tanto una questione voglio andare a vedere ancora per dirvi perché nelle altre due letture era abbastanza chiaro quale fosse il nocciolo allora qui io credo che ci sia qualche tipo di non bugia perché non è non sento che sia una bugia più che altro falsa credenza ecco inerente a quello che è la figura maschile la figura paterna o quello che sono le figure di comando credo credo che ci siano delle proiezioni per quello che riguarda la figura maschile la figura maschile uomini e donne che siate cioè qui parliamo di maschilismo quindi quindi credo che dobbiate lavorare quel tipo di credenze limitanti lì perché comunque avete la stella ok la stella parla di dita di terzo occhio di sesto chakra di capacità di intuizione è una carta di ricettività femminile e sento che quello che che diciamo l'energia che un po sprigionate voi quindi vi sento uomini o donne che siate vi sento molto in questa energia femminile ricettiva accogliente e credo che questo tipo di sofferenza questo tipo di karma vada rielaborato da un punto di vista delle credenze che si hanno sulla figura maschile non so vi faccio un esempio molte persone credono che le figure di potere possano solo essere uomini ecco questa è una credenza limitante per quello che riguarda gli uomini oppure gli uomini sono tutti uguali oppure l'uomo non deve pulire casa l'uomo non deve cucinare l'uomo lavora non so cose di questo genere ok e magari uno non ne è consapevole cioè sono credenze che si acquisiscono durante l'infanzia per una serie di motivi per magari si sente parlare la nonna piuttosto che nonno si vedono determinate dinamiche di vita che ci fanno credere che siano le verità assolute mentre invece è la verità di quel nucleo familiare quindi bisogna un po pulire quel tipo di proiezioni che si fanno che comunque anche alla fine avete un 5 di sfade quindi parla di certi tipi di proiezioni mentali anche questa carta in qualche modo parla di confusione mentale parla anche di manipolazione è molte volte quindi ok andiamo a vedere un'ultima carta da parte delle fatine vediamo che altro consiglio vi posso dare persi e trovati finché non ritrovate qualche cosa non vi siete resi conto di averlo perso quindi qui lo sento molto infatti l'ho messo vicino alla carta del karma per certi versi sento molto questa carta come se vi volesse dire prima di trovare te stesso è giusto che ti perdi io l'ho vissuta molto così in una lettura che ho fatto per me stessa e mi piace questo significato lo trovo molto molto azzeccato con la carta molto azzeccato anche in realtà con questa lettura ok prima bisogna perdersi un po per riuscire a capire chi siete veramente voi a fare questo genere di pulizia e di chiusura ciclo di cui ci parlava il dieci di spade ma state sereni siete sulla via giusta avete comunque la ruota della fortuna quindi qualche cosa cambierà cambierà in meglio poi chissà che per magari qualcuno non arrivi questo cavaliere di coppe già già lavorato già senza credenze limitanti che sia voi che lui o lei dipende se siete un uomo una donna però il cavaliere di coppe esprime proprio quella che l'energia di una persona che viene per proporre una relazione di tipo stabile una proposta stabile insomma bene cari amici dell'opalite io spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao